Ho fatto una super doccia, adesso sto centomila volte meglio. Tra l'altro è l'ora della crema. Ieri sono andata in farmacia e ho comprato questa crema, che tra l'altro mi ha detto che è super buona perché è giusta per l'estate, nel senso che è contro la cellulite, quindi è meglio prevenire perché sennò poi facciamo brutta figura al mare. E poi mi hanno detto che ci sono gli oli essenziali e quindi ha anche una buona profumazione che non è facile.